Lo Yorkshire Terrier prende il nome dall'omonima contè inglese dove hanno iniziato a nascere i primi esemplari e i primi allevamenti. Nella seconda metà dell'Ottocento, questo cane era l'animale da compagnia preferito dagli operai inglesi. Questo perché le piccole dimensioni dello Yorkshire Terrier gli permettevano di infilarsi senza difficoltà nelle gallerie più strette a caccia di topi. Non fatevi ingannare dalle dimensioni, perché è comunque un terrier e questo lo rende un cane coraggioso e tenace. Il suo carattere, docile e vivace, fa di lui un perfetto cane da compagnia per adulti e bambini, adora le coccole e ama partecipare alla vita familiare. Si affeziona a tutti i componenti della famiglia allo stesso modo, anche se in genere tende ad individuare un soggetto con il quale instaura un rapporto speciale di simbiosi domestica. Questo cane possiede una grande perspicacia ed è in grado di capire subito lo stato d'animo delle persone che lo circondano e molto spesso si lascerà influenzare facilmente dall'umore del padrone. Lo Yorkshire è un grande giocherellone e di sicuro non si tirerà indietro di fronte a nessun gioco. Questo aspetto lo rende un compagno di giochi perfetto anche per i bambini, però è molto importante insegnare ai bambini come relazionarsi a lui in maniera corretta, in quanto si tratta di un cane davvero piccolo e quindi un comportamento maldestro potrebbe nuocere la sua salute. In generale si tratta di una razza molto socievole e infatti non disdegna la compagnia di altri animali domestici, come ad esempio i gatti, a patto che venga educato e socializzato sin da cucciolo, per permettergli di andare d'accordo con tutti senza alcun problema. Educarlo non sarà difficile, in quanto è molto intelligente e apprende in tempi brevi ciò che gli viene insegnato, quindi risulta essere un'ottima scelta anche per proprietari alle prime armi. Ovviamente dovrete essere pazienti per i primi mesi e dedicare il giusto tempo al suo addestramento, per permettergli di diventare un cane perfettamente equilibrato. Questa razza ha bisogno di poco spazio per vivere, per cui può tranquillamente stare in un piccolo appartamento, anche se, come tutti i cani, necessita di fare attività fisica giornaliera. Per questo motivo deve essere portato ogni giorno a fare passeggiate e a giocare, in modo tale da preservare la sua salute fisica e mentale. Nonostante non abbia problemi a vivere in appartamento, non gli piace passare troppo tempo da solo, per cui sarà necessario abituarlo gradualmente alla vostra assenza, per evitargli situazioni di forte stress. Lo Yorkshire ha la fama di essere un grande abbagliatore, ma solo perché il suo istinto protettivo lo spinge ad allertare il padrone di ogni piccola situazione insolita. Ricordatevi che è un terrier, il suo desiderio di protezione verso il territorio e la famiglia è una caratteristica innata. Nulla che una corretta educazione non possa sistemare. Il pelo dello Yorkshire Terrier richiede attenzioni quotidiane, perché è molto lungo e tende facilmente a sporcarsi ed intrecciarsi. È necessario spazzolarlo almeno una volta al giorno. Inoltre, per evitare che crescendo impedisca i movimenti al cane, sarà necessario tagliarlo di tanto in tanto. Rivolgetevi ad un tuolettatore che saprà indicarvi i tempi e i modi per una corretta pulizia. Essendo un mantello senza sottopelo, se ben curato, perderà pochissimo pelo, ma questo aspetto rende il cane molto sensibile al freddo. Sarà necessario attrezzarsi con un cappottino impermeabile durante l'inverno. Per quanto riguarda la sua salute, la vita media è di circa 12-15 anni e i problemi di razza più frequenti sono solitamente legati agli occhi, ai denti e alle articolazioni. Quindi è consigliabile un controllo periodico dal veterinario in forma preventiva. Prima di un acquisto, vi invitiamo caldamente ad informarvi in autonomia sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio in tutte le vostre scelte. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni. Qui da Mondocane è tutto. Al prossimo video! Al prossimo video